Se non ci fosse stato il caso Siracusa, l'arresto di Mineo non sarebbe mai avvenuto e di questa storia del giudice amministrativo in vendita non sapremmo nulla. Quello scoperto a Siracusa dopo anni di lotte che cittadini indignati e magistrati per bene, ridotti in minoranze all'impotenza, avevano in mano combattuto contro un muro di gomma e un vero verminaio. Qui i magistrati, avvocati e intermediari si erano messi d'accordo per inventare complotti, aprire fascicoli fantasma, acquisire le carte di altre indagini, minacciare e spiare colleghi, pilotare sentenze amministrative. Furono otto magistrati siracusani il 23 settembre 2016 a fermare l'esposto per denunciare i rapporti fra un collega Giancarlo Longo e gli avvocati Piero Amara e Giuseppe Calafiore. Anticipavano tutto ciò che sarebbe emerso nel corso delle indagini e che lo stesso Amara ha confermato al procuratore di Messina. Nell'ambito della gestione di diversi procedimenti penali, si leggeva nell'esposto, si sono palesati elementi che inducono a temere che parte dell'azione della procura di Siracusa possa essere oggetto di inquinamento funzionale alla tutela di interessi estranei alla corretta e indipendente amministrazione della giustizia. In calce i nomi dei magistrati Margherita Brianese, Salvatore Grillo, Magda Guarnaccia, Davide Lucignani, Antonio Nicastro, Vincenzo Nitti, Tommaso Pagano e Andrea Palmieri. L'esposto partiva dalla vicenda di Open Land, società della famiglia di imprenditori frontino che ha costruito il centro commerciale Fiera del Sud in Viale Pipoli a Siracusa. Si era aperto un braccio di ferro tra l'amministrazione comunale e il gruppo imprenditoriale che ha chiesto un risarcimento di 38 milioni di euro al comune per un ritardo nella concessione edilizia. È stata una sentenza del CGA a stabilire che Open Land, assistita dagli avvocati Amare Calafiore, doveva essere risarcita. Il giudice relatore era Mineo. A lui fu chiesto di gonfiare fino a 2,8 milioni di euro la cifra del risarcimento nel corso di un incontro in un albergo romano. Un risarcimento che mai avrebbe potuto e dovuto essere concesso. Il comune, con gli atti di un suo dirigente onesto, aveva negato la concessione. Ma dopo pressioni, trame e ricatti, un altro dirigente comunale invece l'aveva concessa. Ovviamente in ritardo. Da qui la pretesa del risarcimento avallata dal CGA grazie a Mineo. E quel filo malavitoso univa un magistrato della procura di Siracusa, un avvocato e la sua compagna titolare dell'impresa beneficiaria di quel patto criminale. E proprio quell'avvocato si presentò all'incontro a Roma con Mineo, con in tasca una bozza di sentenza.